Io porto solo il saluto e garantisco l'impegno della Regione tra mille difficoltà con alleati che ogni tanto non sono proprio alleati a fare le cose che Matteo Salvini ci ha detto di fare, l'impegno sulle questioni politiche. Ne cito solo due. La legge sulle moschee che abbiamo fatto per evitare l'apertura di moschee dove si predica il fondamentalismo islamico. Siamo la prima Regione ad averla fatta, questa legge. Il Governo ce l'ha impugnata naturalmente, ma è una legge che deve essere portata all'approvazione di tutte le Regioni. È uno strumento importante contro il terrorismo per rendere più sicuri i nostri luoghi, le nostre città, i nostri paesi. È una vergogna che il Governo Renzi ce l'abbia impugnata in nome di una libertà religiosa che noi vogliamo garantire, certamente, ma la libertà religiosa non è predicare l'odio contro di noi, contro gli infedeli, contro l'Occidente e istruire questi criminali ad andare a farsi saltare e a sparare nei luoghi della quotidianità. Sono molto preoccupato, lo dico da Governatore della Regione, perché a Parigi non sono andati a colpire dei luoghi simbolo. Notre Dame, il Louvre, hanno colpito i luoghi della quotidianità, un bar, un ristorante, un posto dove si ascolta musica. Non c'è possibilità di proteggere tutti questi luoghi, neanche mettendo ovunque poliziotti. Bisogna prevenire, bisogna identificare i sospetti da noi, prenderli e mandarli a casa loro, fuera di bal, subito. Questo deve fare il Governo italiano. La seconda cosa tra le tante che facciamo, non sto ad annoiarvi, ma voglio ringraziare davvero tutti i miei assessori, Massimo Garavaglia, Francesca Brianza, Claudia Terzi, tutti quelli che sono presenti, che fanno un lavoro straordinario, Gianni Fava, Simona Bordonali e tutti i nostri consiglieri regionali, il gruppo Lega e se mi permettete anche il gruppo Maroni Presidente, ma il gruppo Lega soprattutto. Mercoledì ci sarà una mozione in discussione in Consiglio regionale proprio sui fatti di Parigi, presentata dalla Lega e c'è un passaggio fondamentale che per me è decisivo. Si chiede in quella mozione di diffondere il pensiero di una persona che anni fa aveva anticipato queste cose sull'Islam, Oriana Fallaci. La Lega chiede al Consiglio regionale di fare un'iniziativa simbolica, diffondere i libri di Oriana Fallaci nelle nostre scuole perché si insegni il pensiero di Oriana Fallaci e chiedere ai nostri sindaci e ai sindaci lombardi di intitolare una strada, una piazza, un teatro a questa giornalista che aveva visto in anticipo e aveva denunciato il rischio di terrorismo islamico e lei stessa era stata accusata di essere una terrorista perché diceva le cose che oggi si stanno verificando. Onore quindi a Oriana Fallaci e un'iniziativa che noi discuteremo mercoledì in Consiglio. Da ultimo condivido in pieno questo. Questi sono i numeri, 153 milioni al giorno, 54 miliardi all'anno di soldi nostri che il governo si tiene nelle casse di Roma. Io ho provato in questi due anni a discutere con Letta e con Renzi, ovviamente mi hanno detto non se ne parla, tornatene a casa. E allora abbiamo uno strumento noi per ribaltare il discorso che è il referendum. Noi lo faremo, dobbiamo farlo, dobbiamo vincerlo. Se 10 milioni di lombardi vanno al voto e dicono sì, vado io da Renzi e gli dico caro Renzi, caro Matteo sbagliato, adesso a casa ci vai tu e non io. E allora l'abbiamo approvato in Consiglio regionale anche con il voto dei grillini perché serviva una maggioranza qualificata. Siamo riusciti ad approvarlo, lo faremo col voto elettronico, anche qui la Lombardia sarà un'innovazione e questi computer che compriamo per il voto elettronico li lasceremo in dotazione alle scuole perché siano utilizzati da loro. Non sono soldi buttati, non sono mai soldi buttati quando c'è un referendum e in questo caso saranno a disposizione degli studenti. Quando lo facciamo? Devo decidere io. Io ho chiesto al Governo di farlo assieme alle elezioni amministrative, si risparmiano soldi e la gente è facilitata ad andare. Naturalmente il Governo mi ha detto non se ne parla neanche perché vogliono boicottarlo. Io continuerò a chiederlo. Se ce lo consentiranno faremo il referendum, quindi aprite le orecchie, faremo il referendum al primo turno delle elezioni amministrative della prossima primavera. Se non ce lo fanno fare come è possibile, visto che si voterà probabilmente a maggio, io propongo, e questo lo sapremo entro gennaio, io propongo di farlo entro fine aprile. La domenica utile è il 24 aprile, il giorno prima della liberazione il 25 e così ci liberiamo noi prima della liberazione. Vi terrò aggiornati su questo. È chiaro che in ogni caso da gennaio, lo dico a Paolino Grimoldi e lo dico a tutti voi, da gennaio deve partire la mobilitazione, dobbiamo costituire i comitati, in ogni comune ci deve essere un comitato che promuove il referendum. Questa è una battaglia che non possiamo perdere. Mi raccomando, tutti in pista, o il 24 aprile o la data delle elezioni, il referendum, quella è la svolta. Vinciamo il referendum, iniziamo il percorso verso l'indipendenza della Lombardia e della Padagna. Grazie a tutti amici, viva la Lega!